buonasera buonasera a tutti eccomi di nuovo con voi occhio sgranato che vuole vuole significare la sorpresa per l'evoluzione che stiamo vivendo allora va fatta subito una precisazione e ieri abbiamo descritto un'emissione fantastica e ho volutamente calcato la mano sulla singola missione per dire vedete non tutto è finito vedete cosa può uscire dai modelli è chiaro che si tratta delle cosiddette emissioni deterministiche cioè una singola evoluzione basata su un calcolo effettuato dal computer che è un sistema di equazione differenziale insomma che elabora una determinata evoluzione questo tipo di calcolo è chiaro lo ribadisco perché lo so anch'io vedo che viene precisato spesso ma è giusto man mano che si proceda allontanandosi dal tempo t uguale a zero quello attuale perde notevolmente di affidabilità perché è un sistema caotico sono variabili non lineari cioè dove il sopraggiungere di nuovi parametri mano a mano che passa il tempo può cambiare quella che la previsione iniziale quindi nel lungo termine la previsione di questo tipo cioè basata su una sola missione è chiaramente poco affidabile questo è ovvio quindi si è voluto commentare quello poi ci si utilizzano altri tipi di strumenti per fare un'analisi più generale su quelle che possono essere le tendenze io ho voluto mostrare appunto quel quelle missione perché una serie di fattori lasciano pensare che comunque il vortice polare non andrà a compattarsi definitivamente come lascia intravedere all'inizio della terza decade ma quest'anno comunque ha una insita diciamo tendenza al disordine dovuta probabilmente anche all'arrivo del nigno a una madre forte insomma una serie di fattori che di forzanti che lasciano fanno sì che comunque il vortice polare si animi e così sono nate anche le irruzioni gelide che ci sono in scandinavia in america e non in italia perché appunto ancora non c'erano le premesse per avere questo tipo di di irruzioni sebbene sebbene sia giunto a pochi passi da noi ora le cose potrebbero cambiare perché i modelli ipotizzano e qui dobbiamo prendere le linee generali di comportamento ipotizzano dicevo una traslazione del nucleo più forte del vortice polare verso il canada in terza decade quello che è arrivato ora pensate non è il lobo principale però proprio perché non è il lobo principale ha potuto distaccarsi con più facilità e giungere alle medie latitudini e così si sono spiegati i blizzard che ci sono state nelle pianure statunitensi proprio perché il vortice polare quando si allenta la morsa e lascia andare dei lobby questi possono aggiungere molto più a sud se è accorpato resta più a nord è proprio nella fine terza decade di gennaio il lobo principale si praticamente andrà quasi a isolare gradualmente sul canada questo aspetto poi vi mostrerò la carta che ho dietro farà sì che la risalita di aria calda in atlantica e la formazione di blocchi eccolo qua e vabbè mi posso spostare e la formazione di blocchi in atlantico come questo è conseguente poi a flusso gelido da noi questa formazione di blocchi possa essere favorita perché all'aria calda significa alta pressione poi l'ho spiegato anche in altre occasioni aria calda che sale favorisce la formazione di alta pressione e di con i cosiddetti di blocking tra azzorre fino alla scandinavia addirittura ieri c'è il ponte di gueco che però in queste missioni che vi mostrerò adesso è quasi riambossato quindi quello che voglio dire che sostanzialmente sebbene non tutti non tutte le missioni lo mostreranno ci mancherebbe sarebbe fantastico la maggior parte delle missioni adesso alternerà un bel anticiclone una via di mezzo come l'ultima missione del modello americano ma si vede in tutte come ci sia la tendenza a aprirsi una strada verso l'artico anzi verso la scandinavia dell'alta pressione la divisione in più l'obbite poterci parlare la spinta dall'atello autinico dall'altra parte che vi farò vedere questo e mi giro anche dall'altra parte invece è quello che per esempio mostrava stamattina ancora l'alta pressione sulla scandinavia flusso gelido che arrivava direttamente in italia con nevicate anche in pianura quindi inizia a mostrare il modello americano che è spesso affiutato queste tendenze poi magari meno preciso di quello europeo ma queste tendenze le ha affiutate e c'è questa possibilità possibilità non certezza assolutamente no quindi mi sembra voglio che capiate bene quella che è l'emissione di un singolo run come io ho commentato ieri e non è quello commento perché non conosco le regole le leggi della meteorologia ma semplicemente perché era un esempio di come possono evolvere i modelli adesso le vedremo giorno per giorno e io penso che meteoscienza come pochi e faccia vi aggiorno vi generò mano a mano su quelle che sono le possibilità dell'arrivo del freddo ancora non vi ho alcuna certezza però ripeto dopo l'anticidione che ci sarà nella prima parte della terza vega le probabilità che comunque un afflusso freddo molto freddo forse possa arrivare sull'italia stanno aumentando andiamo a vedere le carte andiamo subito a vedere e guardate qua ecco qui il mare di nubi io mi trovo a genova e sta piovendo in questo momento ma comunque il mare di nubi che ci che si trova sull'italia e qui che sale anche verso il centro europa ci sarà aria calda che affluirà probabilmente sopra quella fredda adesso presente nell'europa centrale con valori tra meno 5 meno 10 infatti c'è un allerta a gericidio in queste zone perché cioè le temperature saranno sotto zero al suolo ma più sopra lo zero più in quota quindi cadrà in forma liquida la precipitazione e quando arriverà al suolo si congelerà se dovesse accadere insomma in europa capita meno frequentemente ma negli stati uniti nel canale le grandi pianure sono eventi non infrequenti dopo un'ondata di freddo di gelo andiamo avanti dove sono le piogge eccole io me le ritrovo guardate genova dove trovo io sta piovendo bene poi su tutto l'arco appenninico toschemiliano su firenze anche su roma stanno approcciando e qualcosa anche nell'estremo oriente diciamo italiano ma guardiamo commentiamo l'ultima visione del modello americano molto didattica prima il contesto europeo poi vediamo l'emisferica perché molto importante l'emisferica eccola qua la perturbazione che sta passando e che attenzione porterà tra venerdì e sabato il freddo è confermato soprattutto al centro nord soprattutto in adriatico con valori di meno 5 e meno 6 a 1500 metri di quota quindi qualche nevicata in appennino sarà fugace il passaggio ma qualche nevicata in appennino ci sarà quindi attenzione poi arriva l'alta pressione eccolo l'anticiclone che si rafforza il famoso anticiclone monster che arriva ma poi sale subito verso l'alto anche in queste missioni guardate come punta deciso la scandinavia a un certo punto eccolo qua intorno al 30 vedete come si gonfia mentre le nostre regioni sono un po ai bordi di questa risalita come giusto che deve essere quindi non farà non arriverà più calda anzi saranno infiltrazioni fredde ma guardate intorno al 30 sembra che sia per tornare il ponte di Wavecov si sta formando di nuovo il gel è pronto a questo punto è quasi come ieri però cede un pochettino cede ma non del tutto c'è ancora presente alla fine il freddo alle porte l'atlantico spinge un po di più e qui l'anticiclone scandinavo che si forma quindi sono varie missioni più che meno ci sarà da da penare ma è molto interessante quanto mostra il modello americano anche quello europeo fino a questo punto però l'europeo si spinge meno vediamo le emisferiche attenzione ve le mostro da qui dal 26 dopo che è arrivato ecco l'anticiclone guardate questa guardate a questa ve la diminuisco perché questa è importante vederla bene guardate qua allora è abbastanza accorpato ma inizia a salire la pressione in europa guardate come punta personale guardate la risposta aleutinica dall'alaska questa carta è fantastica il 30 gennaio questa è una carta da manuale per quanto ci sia un anticiclone sull'italia ma è una carta da manuale per l'arrivo del gelo sull'italia perché c'è la spinta di due onde convergenti il lobo canadese vedete il cursore che si isola e questo tutto questo gelo per questo è il vero gelo potrebbe affluire da noi se la spinta continuasse di questo anticiclone però si smorsa un po mentre ieri continuava in pieno oggi si smorsa un po resta parcheggiato un po qui questo lobo gelido ma in questa emissione vedremo dopo lo faccio vedere anche questo gli spaghi vedete comunque puntano in basso vediamo qualche se c'è ma no ma le carte vabbè l'avete capito comunque ugualmente vi faccio rivedere comunque vedete qua tra le 300 scusate alle 300 ore vedete è molto simile a ieri a un certo punto però poi si va a sborsare diciamo eccola come come era e allora quindi che cosa può accadere diciamo che abbiamo questa fase in cui c'è qualche infiltrazione fredda fine settimana dopodiché rimonta anticiclone a ovest dell'italia in grande a questo punto c'è un bivio importantissimo il 26 27 l'anticiclone tende comunque a salire verso nord verso la scandinavia lo dicono anche i regimi meteorologici del modello europeo c'è l'ensemble dicono che le linee tendenza generali quindi non il singola la singola missione dicono che c'è una tendenza alla risalita verso nord dell'alta pressione è il possibile isolamento di uno scandinavia un pattern cioè di un anticiclone scandinavo dalle modalità in cui questo avviene possono cambiare molte cose può arrivare o meno il sul soggetto però c'è una tendenza davvero molto interessante per febbraio voi direte ma ci parli di tendenze qui non arriva niente io questo discuto nella mia rubrica non vi sto di non vi do certezze vi do secondo me delle interessanti nozioni che ripeto faccio quello che avrei voluto qualcuno facesse per me ah e iscrivetevi al canale youtube per questo motivo me ne ero dimenticato preso dal fervore della spiegazione iscrivetevi stai iscrivendo ma fatelo ancora di più perché così consentite la diffusione del canale vi arrivano le notifiche appena pubblico spera e così io posso portare avanti questo progetto che veramente mi piace molto e allora a questo punto i regimi meteorologici previsti vedono che l'assetto è verso una risalita delle alte pressioni dalle azzorre verso la scandinavia quindi si fa strada si farà strada questo anticiclone ripeto dovremo vedere come accade ma ci sono le premesse perché febbraio ma anche fine gennaio adesso perché ieri già ce lo davate fine gennaio io me li seguo tutti le prossime missioni perché saranno fantastiche ripeto l'importanza che bisogna dare alla singola missione a lungo termine è relativa ci può fare un'idea ma io le commento perché sono veramente belle quando vedi che poi hai un'idea questa poi c'è pensi in base alle alle analisi che hai fatto che debba andare in un certo modo e poi lo vedi realizzare come è successo ieri ripeto ci sono tutte le premesse perché accada qualcosa di veramente interessante io lo seguirei un abbraccio a tutti ciao ciao ciao